Ho parlato anche di ragioni strategiche alla base di questo ripensamento cinese nel suo rapporto col mare. Negli anni 90 ci sono due accadimenti molto importanti. Al principio degli anni 90 una grande operazione militare a conduzione americana nel Golfo Persico, Desert Storm, la prima campagna militare contro l'Iraq di Saddam Hussein. Che dimostra in maniera inequivocabile alla dirigenza cinese fino a che punto gli americani fossero padroni delle acque, ma non solo, del mondo. E quanto questo avesse permesso loro di spostare qualcosa come 500.000 uomini in tutta sicurezza e relativi equipaggiamenti dal Nord America fino al Golfo Persico. Se ci fosse stato qualcuno in grado di minacciare anche soltanto ipoteticamente lo spostamento di queste truppe, probabilmente la storia dei conflitti nel Golfo Persico contro l'Iraq sarebbe andata diversamente. Inoltre un altro grande motivo strategico di cui dobbiamo tenere conto è quanto si è verificato nel 95-96 nelle acque circostanti l'isola di Taiwan. Giorgio vi ha parlato del rapporto diciamo così complesso che c'è fra Taipei e il Pechino. Ebbene a quel tempo la dirigenza cinese decise di organizzare delle esercitazioni militari nello stretto per intimorire i cinesi di Taiwan e per fargli capire e comprendere chi fosse effettivamente più forte fra le due parti. La risposta americana fu immediata. Gli americani mandarono un paio di gruppi navali a operare attorno Taiwan. I cinesi furono costretti a interrompere immediatamente le loro esercitazioni e sostanzialmente a subire un'ennesima umiliazione. Dunque il mare dopo essere lo stato nel corso dell'Ottocento era tornato, tornò in maniera piuttosto evidente a dimostrarsi fattore di pericoli per la Cina. Infine ho parlato di una necessità cinese alla base di questo ripensamento. Abbiamo detto che il 90% dei commerci mondiali oggi si sviluppa sui mari. Ebbene una potenza, un paese che come la Cina fonda il proprio sviluppo, il proprio benessere, la propria ricchezza e dunque la saldezza della sua leadership proprio sulla continuità di questi traffici mondiali non può pensare di affidare la tutela di queste linee di comunicazioni marittime a un'altra potenza, una potenza straniera che magari un giorno potrebbe decidere di cambiare atteggiamento e di occludere le vie lungo cui si muovono i commerci cinesi oppure di minacciarle.